Ehi! Metti in moto! Metti in moto! Dupinion! Metti in moto! Oh, la tua vita è un sogno, DP? Sì. Me ne freghismo, ho spinto. Cosce muscolose. Una ragazza bellissima! Scusa il ritardo, ho rastrellato tutto il glutine del mondo per lanciarlo nello spazio dove non potrà più farci alcun male. Baciami che ti sono mancata, Russo. Ma che cavolo? Mi chiamo Cable. Sono qui per il ragazzo. Cosa? Il ragazzo. O ti muovi o muori. I ragazzini ci danno occasione di essere migliori. Ha bisogno di te. Tu sei molto più in gamba di quanto sembri io. Non lascerò che Cable uccida quel ragazzo. Ma non posso farcela da solo. Formeremo un super mega gruppo. Questo faremo. Il nostro gruppo sarà progressista. Multigenere. Ci faremo chiamare... X-Force. Non ti sembra un po' scontato? Hai perfettamente ragione. E ora apriamo le danze. Dittemi che l'hanno girato in slow motion. Fare la cosa giusta è un casino. Ma per combattere per ciò che è giusto. A volte devi combattere sporco. Ecco perché lo chignon da uomo è solo un mullet millennial. Dio, come vorrei aver finito il college. È all'altezza delle aspettative eppure di più. Magari il terzo non lo faranno proprio. Sì, perché dovrebbero. Fermati al secondo. Hai spaccato.